C'era una volta che c'era un incidente in via Napoli, sei la volta Mauro? Si conosciamo, avevamo avuto un incidente, erano in due motorino, guidavano una ragazza, perché c'era la nostra amica. Ui, non c'erano sempre dei miei cinque santi. Loro stavano parlando, le due ragazze, però la loro stavate non hanno guardato lo scopo. Questo qui non l'ha vista arrivare, sono addosso, insomma, era forte di più, però non c'erano due scopi. L'ha preso in piena, sono volate sulle ragazze. Gennaro! Gennaro! Alla fine non si sa cosa, non si sa quando, non si sa quando, non tolisse intanto nella discussione. L'ha preso qua, ha attaccato la macchina. Attacca! Attacca! E l'ha diventata la polizia. E lui non c'era? Genni! Genni! Ma non è perché riconoscevamo. Gennaro! 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 Ma non è perché riconoscevamo. Ma non è perché riconoscevamo. Ma voglio dire. Magari con la mia... Gennaro! Ma non è perché riconoscevamo. No, tutto qua! No, perché su qua c'è stata la macchina con le ragioni lui con le ragazze. Dicevano che loro erano girate l'altra parte. E se qua dicono, sì, ma tu è lo scopo. Che cosa è lo scopo? Hai vinto? Hai vinto te? E se qua, no, è la macchina. Ma la faceva la curva. Allora gli ho intervenuto. Dicevano che era. Che cosa stai la città. Che fosse non. Ma la città. E quale città. E quale città. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.